Forza Tobia, non mollare, sono Matti il biondo, forza Tobia non mollare mai, tutt'angre con te, Tobia non mollare, ormai sapete già questa storia triste di un ragazzo che purtroppo è stato investito dal treno, ma lui stava ascoltando la musica, aveva oltrepassato la linea gialla del treno di Angri e purtroppo sapete come è andato a finire. Domenica, cioè praticamente domenica è uscito un messaggio urgente, dicevano che questo ragazzo ha bisogno di sangue, Forza Tobia, non mollare, siamo tutti con te, perché lo assicuro San Giovanni ci metterà la mano sua, perché San Giovanni mette sempre la mano sua, sempre, a ogni parte è sempre dato il suo contributo, quindi Forza Tobia, non mollare, e Forza San Giovanni, fallo salvare, Forza Tobia, non mollare mai, siamo tutti con te, non mollare mai, Forza Tobia, ciao!